Rifiuti abbandonati, stop ai comportamenti illeciti grazie a un sistema di monitoraggio e a un progetto condiviso tra Comune di Arezzo e Università di Siena. Sì, viene presentato un progetto che abbiamo condiviso con l'Università di Siena, è un progetto sperimentale, quindi non sarà operativo sul territorio, ma ci sarà una fase di sperimentazione che è prevista per un tot numero di mesi. È un progetto di controllo sugli abbandoni e sui comportamenti non corretti da parte dei cittadini, vorrei chiamare 4.0 o 2.0, cioè un po' all'avanguardia, proprio perché grazie alla tecnologia sviluppata dal professore consentirà di individuare in tempo reale questi comportamenti scorretti e quindi produrre un effetto deterrente nei confronti di questo fenomeno, che come i dati ci dimostrano è un fenomeno molto importante, il fenomeno dell'abbandono nel nostro territorio aretino, cioè i dati sono importanti, lo vediamo nei costi del servizio, proprio per ripristinare le condizioni ambientali, e anche sui dati sulle multe effettuate dai nostri ispettori ambientali. C'è un fenomeno molto diffuso che quindi bisogna cercare di reprimere con tutte le tecnologie e le tecniche possibili. Come verranno osservati questi comportamenti scorretti? Sostanzialmente si basa su tecnologie di visione artificiale, che sono all'avanguardia, e consentono a questi dispositivi di effettuare un'analisi sulle scene in tempo reale per identificare i tipi di abbandono. Questo consente da una parte di rispettare la privacy, perché non c'è necessità di trasmettere a distanza immagini. La macchina di per sé decide che cosa e se lo sversamento c'è stato, e provvede ad avvertire in una maniera che è compatibile, interoperabile, verso un centro di controllo, che sarà quello poi del comune, e questo permette di sapere dove l'abbandono è avvenuto, l'entità dell'abbandono, e quindi di programmare un intervento che possa ripristinare lo stato di degrado e di igiene urbana. Allo stesso tempo consente di fornire quei dati che permettano la costruzione di una base storica, conoscitiva, sul territorio. E questo è fondamentale anche per validare, per capire il perché dei comportamenti, e poi validare l'efficacia degli interventi di contrasto. Questa idea era già partita a tempo addietro, no? Lei aveva avuto contatti anche con l'amministratore unico di Coingas, Staderini? Sì, sì, quest'idea effettivamente era inizialmente partita in un ambito legato a Coingas, che aveva portato poi a un incontro anche con il sindaco di Arezzo, dal quale poi è scaturita questo interesse, questo contatto e questa convenzione di cui si stiamo parlando. E quindi la volontà di sperimentare queste tipologie di tecnologie, di metodiche che sono altamente innovative rispetto alle altre. Quando sarà operativo questo progetto? Beh, operativo, come ho detto, ci sarà un periodo di sperimentazione. Quindi per l'esperimentazione mi sembra la convenzione sia sei o sette mesi. Poi dopo, se tutto funziona, se questo tempo sarà sufficiente, perché quando si parla di sperimentazione, chiaramente la variabile tempo non è detto che si arrivi a definirlo nel comprativo, mi auguro di sì, e quindi poi ovviamente bisogna progettare il sistema e individuare dove ovviamente rendere operativo sulla città. Quindi poi va progettato il sistema, ne vanno computati i costi, questi costi poi devono essere verberati nel sistema del PEF dell'Atari e poi io spero che ci abbiano le risorse per il prossimo anno, diciamo, per rendere operativo in qualche parte della città. Questo sarebbe un buon auspicio e spero che ci si possa fare.